Ecco l'altare di una basilica semplicemente bellissima. Qualcosa di incredibilmente bello, qualcosa che merita di essere visto e rivisto più e più volte. Quadri grandissimi, una profondità e una decorazione incredibile. Queste sono le cose che meritano di essere viste, più di ogni altra. Guardate anche da quest'altro lato com'è bella, guardate quel quadro. Guardate la cronicità di quel quadro, altro che l'armo cronista o come diavolo si chiama della Hellish Line. Questa è la bellezza cromatica che si faccia fare le consulenze da uno di questi pittori almeno. Che se no, mi dispiace dirlo, non mi sembra che la sua armo cronista la migliori più di tanto. Anzi, anzi, sono convinto che davvero è molto più bella che in televisione. Evidentemente gli sbagliano i colori, meglio che quei soldi, quelle 300 euro l'ora dell'armo cronista, le dia in beneficenza.